Giulio Migliaccio, gli ultimi minuti della carriera per il 36enne, tra pochi mesi, 36 anni per Giulio Migliaccio, visibilmente emozionato, visibilmente commosso, al suo posto esce Kurtic. Giulio Migliaccio, riceve l'abbraccio del pubblico dell'Azzurri d'Italia, riceve da Gasperini gli ultimi minuti della sua carriera da calciatore. Visibilmente commosso, in due riprese ha giocato con la maglia dell'Atalanta Migliaccio dal 2005 al 2007, anche la fascia di capitano per Migliaccio.